Rimandata almeno di una settimana la promozione dell'Arezzo calcio femminile. Non è stata infatti questa la domenica che ha decretato la vittoria matematica del campionato da parte delle Amaranto. Le ragazze di Mister Testini hanno pareggiato 2-2 contro il Genoa tra le muramiche del città di Arezzo. Sono così 11 punti di vantaggio sulla seconda a 4 gare dalla fine del campionato. Le ragazze Amaranto sono passate in vantaggio al quarantesimo del primo tempo con tuteri da calcio di punizione. Allo scadere è arrivata la risposta del Genoa con Parodi 1-1 all'intervallo. Al rientro Razzolini ha riportato avanti le ragazze Amaranto sfiorando anche il Tris al 79esimo con Orlandi ma la traversa è stata respinta. Infine il Genoa ha acciuffato il risultato di 2-2 con Tornarolo. La formazione dell'Arezzo calcio femminile rinvia così alla prossima giornata la festa di promozione. Loro dall'altra parte non avevano nulla da perdere, il loro obiettivo era fare la gara, sono state brave. Gli aveva fatti i complimenti perché il Genoa giocava un buon calcio, l'allenatore è bravo, le ragazze sono molto brave. Quindi va dato merito a entrambe le squadre che hanno dato spettacolo in una bellissima domenica. Tutti a Perugia? Io spero che tutti a Perugia, sì, me lo auguro. Domenica andiamo a giocare, tra virgolette, dove vivo quindi per molte di loro sarà anche un ritorno al passato e quindi ci prepareremo al meglio per questa gara. Abbiamo lottato finora, ci manca ancora un ultimo gradino e cercheremo di far di tutto per far sì che questa stagione si possa coronare nel miglior modo possibile. Tutti a Perugia? Tutti a Perugia, sì, la prossima settimana può essere, insomma, se viene colto questo appello può diventare anche una giornata importante per questo anno.